Per quanto riguarda il nostro Paese, certamente ancora tanto lavoro deve essere fatto affinché i principi di parità siano poi effettivi e soprattutto siano estesi a tanti settori e tanti ambiti di applicazione non solo delle norme ma di intervento sui vari istituti. Comunque l'indice di uguaglianza di genere del 2022, quello elaborato dal legge dell'Istituto Europeo dell'Uguaglianza di Genere ci dice che l'Italia sta migliorando, anche se ha un quoziente di 65 su 100, tre punti al di sotto di quella che è la media comunitaria. Però anche il dossier del servizio studi della Camera dei Diputati ci rassegna una fotografia che ci dice che il nostro Paese negli ultimi vent'anni è tra quei Paesi che ha fatto maggiori progressi su questo tema. Certamente dobbiamo guardare con estrema sincerità e anche con razionalità anche quelli che sono gli elementi negativi su cui dobbiamo ulteriormente lavorare perché certamente non siamo ben posizionati per quelle che sono le disuguaglianze di genere nel mercato del lavoro in cui l'Italia è indietro di parecchie posizioni rispetto all'Unione Europea e soprattutto in termini di occupazione femminile ancora molto abbiamo da recuperare rispetto a quell'obiettivo della strategia di Lisbona, il 60% dell'occupazione femminile che se oggi avessimo già attuato ci avrebbe portato a un incremento del 7% del prodotto interno lordo. Però in termini di potere, in termini se volete lo voglio mettere tra virgolette il potere ma comunque di presa invece della componente femminile del mondo del lavoro e della società anche sui ruoli di responsabilità, anche sui ruoli politici invece la situazione sta migliorando. Non è un caso che oggi il nostro Paese veda la prima donna Presidente del Consiglio.